Lo sapete che il nostro sistema sanitario nazionale è il più invidiato al mondo? È la più grande conquista degli ultimi 40 anni, ma sta correndo dei grandissimi rischi. Questo è uno dei tanti temi di medicina a chilometro zero. Parleremo degli sprechi, delle virtù, della disorganizzazione e dell'efficienza in sanità e delle tantissime eccellenze che ne fanno parte, e del loro e del nostro futuro. Ne parleremo insieme ad ospiti illustri appartenenti al mondo della sanità e non solo. A giornalisti di settore, con quanti fanno buona sanità anche con l'impegno nella CISL Medici Lazio. Tutto questo è molto di più a medicina a chilometro zero. La sanità in onda su questa rete.